Nel primo olimpico ci vengono le maggiori soddisfazioni ed anche il maggior numero di medaglie, quattro. La quinta, sempre nel ciclismo, la vince il quarteto azzurro su strada. Questa è la finale della velocità che vede impegnato il nostro Gai Ardoni e il belgar Sterks. Gai Ardoni attacca l'esterno, uscita dell'ultima curva, sono impegnati a fondo, passa Gai Ardoni! Primo Gai Ardoni, secondo Sterks. Gai Ardoni è campione olimpico della velocità individuale.